Quando abbiamo parlato di riqualificazione delle periferie con tanti interventi che andavano nella direzione di ricucire la città ci riferivamo proprio a questa tipologia di interventi. Questa era una struttura in stato di abbandono con dei lavori appaltati nel 2009 che si erano bloccati per un problema che ha riguardato l'impresa giudicatrice. Abbiamo attivato le procedure per la risoluzione del contratto molto complesse perché non era facile superarle e abbiamo chiaramente proceduto alla giudicazione dei lavori rispetto alla seconda che si era giudicata l'appalto e con grande celerità e tempestività attraverso un'azione costante e continua abbiamo proceduto alla realizzazione e all'ultimazione di questa struttura che oggi viene consegnata a una parte importantissima della nostra città e con una delibera di giunta comunale abbiamo dato atto di indirizzo per affidarla alle parrocchie della Madonna di Pompeia e del crocifisso che non avendo spazi aperti possono utilizzare la stessa struttura come oratoria e quindi come luogo di formazione dei giovani ma anche come luogo di incontro per i meno giovani e credo che sia una bellissima gratificazione per chi ogni giorno spende il suo tempo a servizio della comunità poter donare una struttura del genere ai nostri concittadini.